Arieccolo, è arrivato Lucchaco a Roma, insomma, ciampino pieno di tifosi contenti di questa situazione, ma adesso che succede? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Perché la sticella per la Roma si è alzata e ha già 5 punti di ritardo dalle prime 3 che secondo me se un po' se ne andranno, ma la caccia grossa, la caccia veramente grossa è alla Juventus e al quarto posto, perché adesso con Lucchaco non ti puoi nascondere più, adesso non è che puoi dire non abbiamo l'attaccante, non abbiamo questo, non abbiamo quello, perché Lucchaco 15-20 gol te li apparecchia, Lucchaco il tiro da lontano, il tiro dal nulla, la sgroppata alla fine te la fa, bisogna metterlo in forma perché se questo non si è allenato con la stazza che ha, valla a rimettere in forma, se prende 5-6 kg in più sono problemi, ma questo quelli della Roma lo sanno, lo devono fare, sarà una bellezza per il campionato, sarà una cosa divertente per il campionato e adesso lo vorrei vedere subito, ma subito intendo per Roma-Milan, Roma-Milan 65-70, si alza Lucchaco e già vedete che ci sarà un casino solo quando lui appare con la maglietta della Roma ed entra in campo, entra in campo, passaggio di Pellegrini, tiro e gol di Lucchaco, che succede all'Olimpico, che succede all'Olimpico, ragazzi questo è Lucchaco, avere Lucchaco, io li capisco chi è pieno di passione, è andato all'aeroporto, sono fatti loro, sono padroni del loro tempo, siccome ho letto qua e là Ema che è arrivato, Ema dove va, ognuno si fa, col suo tempo fa quello che vuole, erano belli, predisposti a divertirsi queste persone, contente perché Lucchaco stava arrivando, Lucchaco guardate che non è un giocatore di poco conto, non è riuscito al Chelsea, ma è riuscito all'Inter, all'Inter il primo anno, Conte vi ricordate i primi due anni, ma a prescindere anche l'ultima situazione che ha avuto, quando lui si è ripreso dall'infortunio con l'Inter, i gol li faceva ogni domenica, ogni domenica faceva uno o due gol, queste cose bisogna dirle, bisogna dirle perché è questo che si aspettano a Roma, adesso hanno Di Bala, Pellegrini, Murigno, Lucchaco, cioè ragazzi questa è una squadra che sicuramente lo scudetto, io faccio un po' il gigione quando lo devo fare, si fa un po' di casino, ci sono squadre più strutturate per lo scudetto, lo so anch'io, ma per il quarto posto no, il quarto posto non si discute più, il quarto posto glielo dovete dare adesso, questi giocatori al proprio pubblico, il ritorno in Champions glielo devono dare, glielo devono dare, e dopo voglio vedere Lucchaco in Europa League, perché l'Europa League effettivamente ha un livello più basso, vabbè è ovvio, non c'è il Bayern, non c'è il Manchester City, non c'è il Barcellona, non c'è il Real Madrid, è ovvio che il livello è un po' più basso, la Roma ci può ritentare con un Lucchaco e beh beh beh, vediamo cosa succede e cosa può succedere, sono tanti gli elementi che porta questo ragazzo, questo calciatore, sono tanti gli elementi, ma la cosa più bella secondo me sarà nel momento in cui durano le formazioni, già a me quando io guardo la Roma, è un momento che non mi deve disturbare nessuno quando sento quell'inno della Roma, quando sento l'inno della Roma mi vengono i brividi perché è bello vedere tutto un popolo cantare l'inno, cantarlo così, e va bene, poggiamolo lì, dopodiché ci sono le squadre, cioè ovviamente la presentazione delle squadre, voglio vedere la prima volta quando diranno Romelu Lukaku, capite? Queste sono le cose che fanno la bellezza del calcio, il divertimento del calcio, sono queste, sono queste piccolezze, il grande campione è stato sempre così, dai tempi di Lido, ancora prima, ancora prima, ancora prima, ecco perché non mi sorprende che 4.000, 5.000 persone vanno all'aeroporto, ecco perché non mi sorprende che ci sono dei youtuber che dicono, ma noi siamo emozionati, mi viene la pelle d'oca, eccetera, eccetera, perché questo, questo del grande campione che arriva è un elemento, è un elemento importante del gioco del calcio, è il gioco dello sport, da sempre, forse dai tempi dei gladiatori, avere il gladiatore più forte, adesso però ritornando sulla terra, parlando di Lukaku, che giocatore è? È il giocatore del primo semestre con l'Inter sempre infortunato? O è il giocatore del secondo semestre con l'Inter che comunque i golli te li ha fatto, i colporto i golli te li ha fatto, è là che ci ha portato, dopo il Benfica ci hanno pensato altri, cioè qual è il gioco, che cosa è, chi è Lukaku? Perché se è quello della seconda parte dell'Inter e si mette bene con questa Roma, deve essere una rincorsa lunga, lunga, lunga per lo scudetto, ma ripeto, per il quarto posto, dopo tutto, siamo a tre punti, solo che già deve incominciare a non perderli più, già venerdì la Roma deve mettersi in testa di non perdere col Milano di vincere, perché se Inter, Napoli, se ne vanno già a nove punti o a otto punti, quelli che siano, e la Juventus magari te ne va a cinque punti, è difficile da recuperarli quei punti, sia ai Lukaku, io lo metterei subito, non dal primo minuto perché c'è tutti che sta giocando, quello sicuramente, però a un certo punto se le cose si mettono male, mettilo dentro, buttalo dentro, e quello che succede, succede, e c'è una sosta per le nazionali, che secondo me è buona per la Roma, se lui non viene ricamato dal Belgio, se il Belgio non lo chiama Lukaku, beh lo mettono lì in sala, quella dei fisioterapisti, eccetera, eccetera, dieta, corse, corse su corse, corse su corse, e lo riportano su a livello di condizione ottimale, perché un Lukaku in condizione ottimale per il campionato italiano è una gran cosa, lui conosce il campionato italiano, con l'Inter l'ha conosciuto il campionato italiano, tre stagioni, non è che ha fatto dieci giornate, tre stagioni, questo significa che lui il campionato lo conosce come, sa come giocano le difese, conosce i difensori, conosce anche i ritmi della partita, è una cosa per la Roma, è stata una mossa assurda, cioè siamo passati da Asmur, che è l'iraniano mezzo rotto, a prescindere, ma la Roma li deve comprare sempre un po' così e così, integri mai, cioè anche Renato Sanchez, non lo so, ma questo è un altro discorso, però da Asmur siamo passati a Lukaku, a Lukaku, io lo so, lo so anch'io, Ozyman è più forte di Lukaku, Lautaro, ve lo dico, è più forte di Lukaku, e lo stesso Vale Leao è più forte di Lukaku, ma Lukaku è forte comunque, cioè entra nel gruppo di questi giocatori, cioè capite, è nel gruppo di questi giocatori di top level, ma top 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 level, che non è Belotti e neanche Abram, perché non dimentichiamoci che la Roma in pancia c'è ancora Abram, ma Abram non è Lukaku, non ti riesce a far salire la squadra a fare a spallate, a fare quel tiro da lontano, a andare dentro di testa, non ci riesce a fare quei colpi lì, Lukaku è più completo e più funzionale per la Roma, per il gioco di Murigno, per il gioco di Murigno sicuramente Lukaku è più funzionale e sarà più funzionale per lo spettacolo, perché ripeto, a livello di spettacolo vedere Lukaku l'all'olimpico con la maglia giallorossa ragazzi, non ci pensava nessuno, questo canale è stato uno dei primi canali a dire una cosa del genere, questo canale è stato uno dei canali più immediatamente che ha preso questa notizia in giro, l'ha sentita, l'ha odorata, ha avuto il feeling, perché questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo aperto 24 ore su 24, siamo aperti 24 ore su 24, non ci stanchiamo mai, non dormiamo, non dormiamo mai, facciamo solo questo, non è così, però ragazzi complimenti e congratulazioni alla Roma, congratulazioni alla Roma perché lo sforzo c'è, deve pagare perché è un prestito oneroso, deve dare i 7 milioni e mezzo al giocatore, se ho capito bene queste un po' le cifre, insomma un po' di esborso c'è, c'è stato, sono riusciti ad aspettare al momento giusto a prendere bene, così come avevamo fatto con Di Bala e Di Bala nessuno se ne è pentito, nessuno si è pentito di Di Bala, anzi è un piacere, ti ruba gli occhi e quando c'è Di Bala si vede che il livello della Roma si alza immediatamente, adesso però i compagni devono imparare anche loro a alzare il loro livello, se siete arrivati fino a qua vi dico una cosa, io al posto, io se fossi la Roma incomincerei a pensare di allontanare Mancini, di allontanare questi giocatori che non fanno altro che litigare con gli avversari, con l'arbitro, non va bene, non è così che si vince, ogni tanto va bene, ma farlo sistematicamente è un problema anche per la propria squadra, cioè la Roma deve cambiare, deve scendere in campo per giocarsi la partita, dopo se succede qualcosa allora magari un po' la mentela ci sta, ma deve andare in campo in maniera diversa, con una mentalità diversa, questa mentalità dell'andare sull'arbitro deve sparire, deve completamente sparire per il bene della Roma e per il bene del campionato e per il bene di tutti, di tutti, perché porta, è brutto da vedere, credetemi non c'è niente di bello quando succede una cosa del genere, tutti a cerchiare uno solo che è l'arbitro, è brutto, ma veramente brutto e la Roma ce l'ha sta cosa, quindi la Roma incomincia a pensare a giocare a calcio, perché adesso c'è l'attaccante e c'è l'attaccante da 20 golle, non c'è più l'attaccante da 10 golle, forse li fa, forse non li fa, quello li fa, beh è Luccheku, ci apparecchia questa situazione ragazzi, non vedo l'ora di Roma-Milan con Luccheku che entra a settantesimo, zac doppietta, uno di testo e un tiro da lontano, è così bello, ci divertiamo, ragazzi questo è il canale YouTube più bello d'Italia ed Europa del mondo, 24 ore su 24, aperto, 24 ore su 24, quindi mi raccomando iscrivetevi se non siete già iscritti, ultimamente vi siete iscritti centinaia, in una settimana credo 500, 400, una cosa del genere, quindi vi ringrazio tutti, mettete un like, mettete un like, apparecchiate il like e lasciate pure la campanella, mettete la campanella così siete avvertiti, faccio tante live per ora, forse anche stasera, non lo so, ci vediamo più tardi, ciao ciao!